Vi dicevo della buona notizia che ci viene dal governo, questa volta sul salvataggio in estremisi della Casa delle Donne, il governo, il Ministero dell'Economia, qui vedete una delle tante manifestazioni che ha peggiato in questo caso la Fiorella Mannoia, a tutela di questo istituto che ormai è benemerito perché è un'oasi nel degrado e nella tragedia che spesso può colpire una donna nelle vicende della vita, il buon pastore. Vi dicevo del governo che ha stanziato 900 mila euro che di fatto tiene in vita l'istituto nonostante le reiterate ingiunzioni di sfratto fatte dal Comune e dalla Sindaca che incredibilmente sta applaudendo all'iniziativa del governo. Bene, così vanno le cose a Roma.